ma perché ma marco se io so forte non è colpa mia se voi perdete contro di me non è colpa mia ma quindi marco allora se adesso stai fermo non succede niente stai fermo al posto stai fermo la ma che fermo ma se mi ammazzate e vedi se si è mosso allora stai fermo per un solo round non lo compiamo per pensare che io ho imparato a parlarsi sul senso non lo so no ve l'ho detto sono troppo forte ma perché tu non la usi la mira assistita ma tommaso 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 come se sia come se piassa cosa ma cosa mia raga che c'è smash che chi le tutti smash no ma se si ammazzate ma sei fortissimo se ti è fortissimo ma sei fortissimo ma sto la cane no 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 non mi spar32 non mi spararci è qua è qua dov'è come l'ha fatto a prendere come l'ha fatto a prendere ma lui dovrebbe aver fatto qualcosa come l'ha presa ma perché lui fa un movimento per prenderla cambiamo ma 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 questa è bella scusa no non è bella perché usi il bug questa cosa viola ma quale bug ma sono loro e scarso le 6 sei riuscita a morire e che mi può vergognare ma dove 140 parla parla marco ma io non ci gioca forte ma ti credo a livello più basso ma cosa non sto capendo cosa farà una cosa faccio finta di non prendere niente che se non prendo niente sperando che funzioni fammi spavare riprende sempre stagia ma non la prende ok non la prende questa partita non la prende e quindi postate potete stare tranquilli non lo so muore appena lo vedete ma cosa se sei nato mo sei te che sei stato scarso non ho fatto niente non ho fatto niente non ho dato 40 oh ma voi ha 107 di vita ho detto 30 hit in edge shot col col sia con lo scar sia con no e sia con il tattico ti ho visto molto guarda che ti sta dietro qua ti scena sotto lo vuoi vedere apriti sopra vai a prendere il vizio domani ma che poi non ho mai preso non so manco che cos'è le salite scuse da bambino non vuole farsi scoprire ma cosa ormai non prendere il bambino è un po' difficile esatto quello è bello perché Tommaso è un hackerone no 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 io ritengo il mio amico che è il hacker che è il hacker si chiamano ogni 800 c'è un amico che gioca solo a Fortnite e non sa che lo so ma a me che mi fai la scoglia tutti lo sanno ma io so che ho chillato anche senza non è che allora la metti che ce l'hai ma io dico senza perché cioè non so che guarda lo sanno ma non è vero a voi ma io ce l'ho col ballo la eccolo eccolo ho visto ho visto passi lì passi lì ho visto dove le passi ma che vuoi ha Marco ma quali gliccio c'è ma quale gliccio Marco ma che stai a dire sto proprio curioso di vedere con il bici se saremmo in corpo con un cittadino quanto fa no è vero io sono passato da una parte a casa e l'ho preso ma cosa c'è no è vero io sono passato ma qua ora. no non la prendete Così non funziona Con cecchino Eh sì Eh però Non vale far cadere Che cattivo Che cattivo Le ho fatto cadere Stai per prendere il rilis Esatto Cattivo Scusa Tu però Per me Con maso Non va direttamente là Lui va da una parte Lui va Allora lui due No dai Non mi uccide Ok Non ti ammazzo No mi ammazzo Lui va da una parte Va Sly Voto 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 Mi ha preso nella faccia Mi ha fatto un ciclo Ehm No no Non sappiamo Non sappiamo che un ciclo Ormai Non ce lo devi vedere Ah è vero Mi ha fatto Quanto mi ha fatto In corpo Perché lo sa Dispettando No è giusto Dispettando Per prendere quel cavolo Numero Della epic Va qua Dove sto Dove sto Buildando io E' lui Oh Ma da là dove stai te Che devi fa Quella Ti ha sgamato Ti ha sgamato Però Non vuole far vedere Vedi 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 Guarda Ho preso Di nuovo Ma ho preso Cosa Ma ho preso Cosa Guarda Ma Ma si può Prendere Più di una volta Ma cosa Ma cosa Ora c'è Anche il gel Ma ho preso Cosa Raga Ditemi Sì 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 Ma è la skin È la skin Bravo 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 Un genio Con cattiveria Che sono pure Prendere il sonno Perché sono Prendere il sonno E vieni Vieni a vedere Un attimo Una cosa Ora guardo Bravo Samu fermo C'è chi non ha il fu C'è chi non ha la faccia Samu La parola devi prendere Tomà Tra l'altro Con il bolt action Spacca in Brova Perché non si può Con il bolt action Eh vabbè Sì no vabbè Tomà Però la rifiniti Di tre con la roba Tomà Ma Non No no i No no non No no Vabbè Vabbene Ma vabbè Va bene cosa Va bene Sì 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 no no perché era era lo scherzo ma l'avete trovato ma io l'avevo detto tre volte tommaso la conosco non so soltanto ma cosa ma non tiro ma non c'è niente ma tu non hai detto che si può prendere solo una volta solo una volta e rivincere madonna ma c'è un mato che ho scoperto dall'inizio